A seconda della versione, Renault Talisman è dotata di un regolatore di velocità adattabile che è possibile attivare tramite il pulsante sulla console centrale. Una spia verde si accende e viene visualizzato il messaggio Regolatore di velocità sul quadro della strumentazione, per indicare che la funzione è attiva. Il regolatore di velocità adattabile consente di mantenere la velocità scelta e una distanza di sicurezza dal veicolo antistante sulla stessa corsia. Consente inoltre di frenare il veicolo fino a un terzo della capacità frenante, quindi, a seconda della situazione, il conducente può incrementare la frenata. È possibile modificare la velocità di riferimento tramite i comandi di regolazione al volante. Grazie per la visione!